Archiviata la parentesi di Coppa Italia, ritorna il massimo campionato che per l'ottava giornata di ritorno propone l'incontro di cartello proprio all'Olivieri di Via Sogare, dove si affrontano a GSM Verona e Mozzanica, ovvero quarta contro terza. Scaligere in campo con lo stesso schieramento iniziale del derby di Coppa Italia, Lombarde con Lex, Pierone, Ledri e Motta in campo. Le due squadre partono molto guardinghe, tanto che bisogna attendere il quarto d'ora per assistere al primo tentativo del Mozzanica, che non inquadra la porta con Giacinti. Verona in vantaggio al diciottesimo, Gabbiadini va via sulla sinistra e mette la palla in mezzo, velo di Piemonte per la liberissima Giuliano, che insacca il gol dell'ex e del vantaggio gialloblu. Le Lombarde si rendono subito pericolose con Pierone, che chiama Talman alla difficile respinta. Il Verona ci prova con Gabbiadini e Piemonte che non riescono a concludere. Il Mozzanica perviene al pareggio al trentaduesimo con la perfetta incornata di un'altra ex, Valeria Pierone, che ruba il tempo ad Angelica Sofia. Trascorre appena un minuto e le scaligere tornano in vantaggio. Giuliano apre sulla destra per Gabbiadini, che mette in mezzo per il tappin vincente di Martina Piemonte. Al quarantesimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione della di Criscio, la sfera perviene in area in posizione defilata alla giovane Caterina Ambrosi, che fa partire una conclusione imprendibile per il 3-1 scaligero, risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. In avvio di ripresa, il Mozzanica riapre il match con Valeria Pierone, che incorna da due passi, sfruttando l'assist involontario di Federica di Criscio. La GSM Verona si riversa in avanti e riesce subito ad allungare nuovamente. Martina Piemonte lavora bene la palla sulla sinistra e serve Capitan Gabbiadini, che si gira e trova il pertugio giusto per battere a rete. Al tredicesimo, l'ex Emanuela Giuliano estrae dal cilindro una conclusione fantastica dalla lunga distanza, con Sfera che scuote la traversa e si insacca per il 5-2 della GSM Verona. Dopo la doppietta personale, la numero 10 scaligera viene sostituita dalla greca Conguli. Il Mozzanica non molla la presa, ma le veronesi sono micidiali nelle ripartenze. Le ragazze allenate da Longega si portano addirittura sul 6-2 al ventottesimo. Galli sul filo del fuorigioco, dalla sinistra, mette dentro per la precisa conclusione di Martina Piemonte. A tempo scaduto, Talman, con un grande intervento, nega la gioia del gol all'ex Giorgia Motta. La GSM Verona supera con un roboante 6-2 il Mozzanica, superando la stessa formazione bergamasca al terzo posto in classifica. Sabato prossimo, Gabbiadini e compagni saranno impegnate nella difficilissima trasferta sul campo del Brescia.